ecma 2018 siamo live dallo stand benelli in compagnia della nuova 752s una naked di media cilindrata pronta a dar battaglia alle best seller del segmento come la mt07 diamo un po di dati tecnici la il motore è un bicilindrico da 77 cavalli 67 newton metro di coppia il telaio come vedete qui è un traliccio in tubi e forcella marzocchi ben dimensionata upside down vedete accoppiata a dei freni brembo con pinze ad attacco radiali decisamente da sportiva più che da naked di entry level diciamo ne che di medio di medio livello i fari sono full led come potete vedere bello la forma ovale del proiettore con le con le frecce a led la strumentazione è digitale e permette di visualizzare diversi menu diverse informazioni come il trip l'autonomia l'indicatore della marcia e il livello del carburante a livello di design è una joint venture tra i designer italiani e la proprietà cinese vedete bellissimo e caratteristico il passaggio dello scarico lì dietro la pedana del passeggero codino abbastanza rastremato ma c'è spazio a sufficienza per il passeggero arriverà all'inizio dell'estate del 2019 con un prezzo che secondo benelli sarà decisamente competitivo e voi che cosa ne pensate della nuova benelli 752s fatecelo sapere nei commenti qui sotto se vi è piaciuto il video lasciateci un like iscrivetevi al canale non dimenticate di seguirci su www.motorbox.com e ovviamente sul canale youtube per non perdere tutti i video live qui da Aikman